buongiorno a tutti ciao francesco ti vedo di già a metà dello schermo bentornati un nuovo appuntamento episodio come vogliamo chiamarlo di bibliobu ma anche oggi parleremo di libri e di tante di tante altre cose buongiorno francesco ciao elios oggi sono veramente sereno tranquillo perché so che la puntata ce la portiamo a casa in un batter d'occhio perché abbiamo la nostra una nostra super ospite ospite no mi non voglio nemmeno definirla ospite perché è una parte della nostra redazione no devo 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 dire che sono come dire i sereno beato perché non vedo l'ora che ci racconti come sa fare solo lei e questo questa nuova proposta di lettura ma elios come stai ma che fine avevi fatto come sono andate ste questo mese di gennaio freddo ci siamo portati a casa quasi tutto febbraio è sì 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 è andata andata bene dal abbiamo fatto un sacco di cose in biblioteca ne faremo tante altre stiamo organizzando serate di giochi vedrai vedrai che poi ci sarà da divertirsi è il quella dei giochi è una cosa che come dire assesso sta diventando un mood nel senso che siamo tutti e attenti alle proposte che cercherà di fare la biblioteca perché ci vogliamo essere no io vedo gente sento cose e allora mi mi sento di fare un po il megafono di questa cosa tanti stanno aspettando i giochi da tavolo le serate che avete proposto che abbiamo proposto no 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 in tanti si stanno iscrivendo quindi se ancora non lo sapevate sappiate che se andate sul mio facebook della biblioteca per esempio trovate tutte le informazioni e vi aspettiamo dopo allora e allora elios ci siamo siamo giunti da londra ragazzi dove ancora abbiamo un panino in sospeso la nostra antonella ciao ragazzi ciao 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 antonella come stai io sto bene benissimo voi tutto bene vi vedo pimpanti sereni devo dire oggi in modo particolare perché diciamo è stata una giornata bella movimentata a livello di lavoro è elios però finiamo concludiamo in maniera come dire eccezionale con biblio boom assolutamente poi come dicevi te è sempre bello avere antonella come ospite come amica non lo so poi ognuno dice un po come come una nostra collega biblio boom assolutamente con noi praticamente ai tempi dell'ottanto è nata la radio quindi è vero è vero a me fa piacere tantissimo ritrovarmi con voi anche io vi reputo come vecchi amici o colleghi o persone comunque abbiamo preso un viaggio e questo di biblio boom siamo contenti io so che sia io noi lo sappiamo è lo facciamo lo diciamo anche ai nostri e bibliobo boom ascoltatori e che sei impegnatissima la tua scuola la tua classe l'impegni famiglia insomma un po come tutto però quando arriva biblio boom l'anto si ferma io subito l'ondra l'ondra si blocca il tamigi si fece lì veramente questa mezz'oretta tutta nostra non si tocca e di questo siamo siamo come dire siamo fieri di te proprio quando sesto san giovanni chiama londra 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 risponde bellissimo bellissimo elios e a proposito di questo hai chiamato hai chiamato perché sai che anto è pronta per un assolutamente una lettura importantissima seria un po un thriller tra uno serie una cosa seria ma anche un thriller penso che sia anche il periodo dell'anno in cui tante volte ci buttiamo in questi in questi libri in inverno tante volte i libri sono più intensi sono più magari d'estate ci buttiamo in libri più leggeri più divertenti ma questo diciamo che hai già iniziato antonella a parlarci del del libro quindi io ti ti lascio assolutamente iniziare il consiglio alla lettura poi come dici thriller mi viene voglia di ascoltare facciamo una cosa nuova stasera anto e noi facciamo una domanda legata al libro e tu ci rispondi con una parola chiave no c'è tipo per esempio titolo è potuto di te però mi dice se l'ha letto in inglese in italiano in italiano so tutto di te come l'hai letto in inglese allora il titolo in inglese ai sigli elios la domanda l'altra domanda veloce veloce qui io ti vedo io ti vedo perché ti vedo perché è un mistero rispondere con una parola perché si parola chiave autore autore claire macintosh genere thriller lettura invernale questo l'abbiamo capita alto a te l'abstract abbastanza allargato allora allargato però non voglio dirvi tutto è la storia comunque di una donna di una donna che ha fatto una vita abbastanza difficile ma anche la vita magari di tante persone normali per cui è una donna con figli divorziata che ha un lavoro monotono con un con un capo che le fa sempre pesare sai tante volte quando lavoriamo abbiamo anche magari sai il lavoro che diventa più difficile quando abbiamo dei rapporti con con i capi o con altre persone che lavorano insieme a noi quindi è una routine abbastanza importante che ha dietro di lei e poi lavora siccome questo libro si svolge in una metropoli a londra lavora con la vita di una pendolare per cui prende treni metropolitana quindi il viaggio il viaggio di solito che fa verso il lavoro a casa è sempre un viaggio dove magari uno un momentino si rilassa legge libri legge giornali e una sera tornando a casa appunto dopo una giornata lavorativa abbastanza pesante si mette a leggere un giornale e non so voi in italia ma per esempio qui a londra abbiamo molti giornali che trova si trovano sui treni sulle metropolitane sono giornali locali che sono gratuiti e tante volte li trovi sui treni così la persona che viaggia può leggere tranquillamente e quando sta leggendo uno di questi giornali a un certo punto viene bloccata quando vede una foto di se stessa sul giornale una pubblicità di una di una linea tipo un po diciamo una linea un po equivoca tipo all'ociroste cioè questo punto la foto è una hotline una hotline e si trova appunto il suo viso e questo questa questo numero di telefono al momento pensa di avere cioè di essere una una qualcosa di 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 avere magari sognato di avere di no frainteso quello che ha visto invece quando si rende conto che infatti è la sua foto e tutto prova a chiamare quel numero il numero non non esiste inesistente torna a casa dalla famiglia ai familiari comunica il tutto loro la prendono sicuramente eh sotto gamba le dicono guarda sarà un errore qualcuno ti vuol fare uno scherzo eh lei vabbè si tranquillizza ma nei giorni seguenti sullo stesso giornale trova foto di donne diverse con lo stesso numero e cosa succede eh le donne eh le donne che vengono di cui lei trova la foto vengono coinvolte in qualche tragico eh in qualche tragica fine eh quindi comincia a preoccuparsi eh poi accadono altre cose appunto che questa persona le manda diversi messaggi si fa non si fa vedere non si va però si fa sentire che la sta osservando la sta seguendo insomma è qualcuno che eh le sta eh addosso e quindi immaginate voi eh il come questa donna si possa sentire come si svolgerà nel libro eh arriverà poi un'altra donna ad aiutarla che è una detective che ha avuto problemi in passato eccetera ma si sentirà eh diciamo coinvolta anche lei essendo donna ad aiutarla e poi vedremo appunto quello non vi dico come come succede cosa succede è da leggere tutto è molto è molto eh come si può dire eh accattivante come libro anche perché poi è svolto in capitoli diversi ogni capitolo è un personaggio diverso che parla sono tre personaggi quindi è è Zoe la protagonista eh quindi sentiamo il suo punto di vista lei che parla che racconta le sue paure e tutto poi abbiamo eh il la persona che la che la sta importunando che non si sa se è un uomo o donna non si capisce ancora bene quindi è da da capire poi nel libro e poi c'è eh la detective donna che la sta aiutando quindi anche dalla sua eh diciamo dalla suo punto di vista viene raccontato un libro quindi mi piace appunto anche come libro non è il primo libro che leggo dove ehm viene raccontato appunto da diciamo da persone diverse quindi da diversi punti di vista da diversi punti di vista quindi mi è fatto anche bene mi piace come è stato costruito appunto in questa maniera e ve lo consiglio a me è piaciuto tantissimo abbiamo capito che i due protagonisti principali sono due donne coraggiosi sì 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 esattamente eh quindi la dove vedi il coraggio di queste donne dove dove vai a a a capire che riescono ad affrontare a superare sì la vedo perché eh sono purtroppo come donne tante volte le donne subiscono vabbè lo sappiamo tutti ormai eh tante eh subiscono tante tante cose no da soprattutto da uomini e in questo caso appunto è il fatto che una donna eh che fa cose normali non è che eh faccia chissà che cosa va al lavoro tutti i giorni prende il treno prende i mezzi pubblici eh ha una vita normale con dei figli e purtroppo viene targettata così senza senza motivo o per un motivo che poi vabbè non sappiamo eh solo perché è donna quindi la vulnerabilità eh pur essendo una donna forte e e resa vulnerabile perché appunto qualcuno si approfitta della sua eh diciamo eh maniera di di essere normale cioè una donna di tutti i giorni e penso che la sua forza è nel non non arrendersi ma anzi vuole andare a fondo per scoprire cosa le sta succedendo quindi in questo caso quando eh chiede aiuto alla detective e quindi vuole cercare di liberarsi da questo eh diciamo da questa grossa come si può dire ehm ombra gettata su di lei che la rende debole vulnerabile perché non sapere chi ti ti sta intorno o cosa ti può succedere eccetera è una cosa che ti può creare problemi tante sicuramente e sì e poi quello che dicevi che dicevi prima in contrapposizione appunto alla domanda che ti ha fatto Francesco del coraggio di di queste due donne un aspetto purtroppo negativo tra virgolette che però spesso accade è quello magari di è l'atteggiamento ecco che hanno i familiari nei confronti della della ragazza quello del dire ma no ma vedrai di sottovalutare in qualche modo di sottovalutare è semplice parlare da fuori eh però posso di sottovalutare di dire ma no vedrai che è un errore del quotidiano del giornale ma no vedrai che non è e poi magari invece dietro a queste situazioni che apparentemente potrebbero sembrare degli errori delle delle cose degli scherzi poi invece si nasconde qualcosa di molto più serio esatto invece una domanda che faccio a te ehm legata alla lettura di questo psico thriller veramente una roba c'è eh e e quella è quando sei riuscito a tirare il fiato eh c'è nel senso quando ti sei rasserenata a livello della lettura perché io so che questi libri di solito il colpevole te lo danno alla penultima pagina cioè infatti fino alla fine fino alla fine perché eh e poi comincia molto lentamente perché appunto eh eh di suddiviso in capitoli di persone diverse che raccontano quindi bisogna anche riuscire infatti io all'inizio non capivo come mai cambiava persona poi ho realizzato che erano personaggi diversi e parlavano dal loro punto di vista quindi diciamo l'inizio ma come tutti pensiamo tutti i romanzi tante volte che hanno dietro una grosso un grosso una grossa trama iniziano molto lentamente quindi bisogna riuscire a mettere tutto il passo insieme e comunque fino alla fine fino alla fine ti fa tenere il fiato per quello mi è piaciuto anche perché non è una cosa che ti dice subito capito cioè non è un libro che ti dice subito quello che succede ma devi leggerlo fino alla fine e ti fa stare un po' col diciamo col fiato in sospetto il tu parli di londra un come dire io dico girato scritto nei luoghi tu conosci questi luoghi sei riuscita a Londra centrale e sud di Londra che è la zona un po' dove abito io quindi come luoghi sì sì li conosco quindi tante volte quando misti mi scusate mescoli il la figlia con la realtà ti fa un attimino anche sai di ah cavolo è come se leggi un libro girato a Sesto San Giovanni e conosci tutte le parti mi conto se è un libro d'amore ma mi conto se è un thriller magari una sera al tramonto che cambio strada però tante volte è anche bello perché ti fa visualizzare di più alcuni alcuni posti cioè magari la stazione di Brixton o Waterloo cioè capito tu sei stato conosci il luogo ti immagini quindi sta persona lì in questo luogo cioè secondo me ti fa visualizzare ancora di più il libro ti fa entrare ancora di più magari tante volte nel nel romanzo nel nella trama io ho l'ultima domanda Anto eh mi sto mi sto appassionando secondo te diventerà un film questo libro io ce lo vedo come un film perché è molto molto attuale è una sceneggiatura è una sceneggiatura da adesso non dico la serie tv ma un paio una mini serie anche una serie Netflix anche una serie Netflix perché ce ne sono tante simili al momento fuori senza far pubblicità a nessuna perché questo psicocrime sta diventando crime questo psicotriller sta diventando come dire materiale per nuove produzioni e tu come la vedi rispetto a questa storia un pensierino ce lo farei se fossi un regista o un appunto qualcuno un play script writer che magari pensa appunto di fare perché è molto attuale infatti è giorni nostri perché sono cose situazioni che succedono purtroppo succedono molto spesso lo stalker gli stalker esistono purtroppo e ci sono voluti anni per renderlo un crimine diciamo perché all'inizio non veniva molto veniva molto sottovalutato soprattutto perché era fatto alle donne molto spesso quindi solo ultimamente sono riusciti a non so in Italia ma qui a Londra ci sono regole appunto viene appunto sai preso sul serio tante volte quindi fin dall'inizio quindi secondo me è una cosa purtroppo che è molto attuale dei giorni nostri e poi anche vabbè è molto attuale perché anche tante cose io leggendo perché vivo a Londra tante cose che vengono menzionate anche posti dove si va a mangiare o cose del genere sono cose dei giorni nostri quindi secondo me è un libro che ci starebbe può diventare miniserie miniserie con il detective donna che risolve i casi ce ne sono adesso è da capire le storie perché adesso ci sono bravissimi avvocati bravi bravi poliziotti bravi poliziotti no però c'è da dire questa curiosità Antonella l'ho letta quando preparavamo con Elios su questo momento lei è stata una poliziotta ha lavorato proprio la Macintosh Macintosh sì era ha lavorato in polizia dieci anni dodici anni se non erro sì per cui magari la detective può essere anche un suo auto può essere anche lei che si racconta perciò le cose meravigliose di questi libri è che ognuno poi veramente vede delle cose che forse gli autori manco le è Elios manco le pensano e invece noi andiamo a farci un sacco di allora magari questa è anche una storia in qualche modo vera che aveva che aveva vissuto in prima persona da da detective però vabbè potremmo stare qua a pensarle a pensarle tutte e magari poi sentendo l'autrice in un'intervista ti dice ah sì l'avete pensato no per me non era così però ci sta per favore puoi portarci la Macintosh che io chiediamo sì l'ho contato io ti devi tradurre tu perché con Elios nel senso che sì capiamo la lingua non la parliamo sì già prima hai detto una roba che ho fatto un po' fatica in inglese una parola lunghissima che cos'era? eh non l'ho capita allora vuol dire che non sono stato vabbè vabbè pazienza andremo a rivedere questa puntata che è quasi alla fine però dai due minuti con Antonella della vita pratica londinese che è quella che ci adesso ci dovrà portare a viverlo questo weekend insieme ad Elios e d'Antonella nella città di Antonella dai Anto due robe sull'anno nel weekend Antonella raccontaci un po' c'è il carnevale a Londra c'è il carnevale il carnevale a Londra c'è alla fine di agosto che è il carnevale di Notting Hill che però è un carnevale che è stato portato all'inizio degli anni 50 dai emigrati dei Caraibi quindi come sapete la Giamaica alcune isole Caraibi che facevano parte dell'Inghilterra dell'impero britannico erano delle colonie inglesi alla fine della guerra della seconda guerra mondiale dopo guerra l'Inghilterra aveva bisogno di essere ricostruita come tanti paesi in Europa dopo la guerra per cui cosa hanno fatto siccome mancava mancavano le persone mancava la mano d'opera hanno invitato tanti abitanti appunto delle loro colonie a venire ad abitare a Londra a Londra in Inghilterra e a lavorare e così ci sono state le grosse immigrazioni della fine anni 40 inizio anni 50 delle colonie britanniche nei Caraibi e cos'è successo? che quando sono venuti qui soprattutto dalla Giamaica infatti non so se sapete mio marito era di origine giamaicana i suoi genitori facevano parte di queste persone che sono venuti appunto a vivere in Inghilterra negli anni 50 sono arrivati in questo paese che pensavano fosse l'America cioè tutto facile bellissimo sono rimasti scioccati prima dal clima perché oggi immagino arrivare dalla Giamaica o dai Caraibi o dai Barbados o dai sai le isole che ci sono e ti trovi in un clima che poi diciamo 50 anni fa faceva molto più freddo però avevano le loro usanze che hanno voluto portare e una delle loro usanze erano appunto i balli caraibici quindi il Calipso Soca e a loro piaceva tantissimo ballare suonare cantare e allora cos'è successo? per sentirsi a casa alla fine di agosto hanno creato questo festival di musica appunto in una zona di Londra che poi si è stabilita all'inizio era un po' più lontano da Notting Hill poi alla fine si è stabilita a Notting Hill e quindi da più di 50 anni alla fine di agosto l'ultimo weekend di agosto c'è questo cartone da cui vengono da tutto il mondo diciamo e è proprio un'area piccola non so Notting Hill se avete visto il film di Notting Hill è proprio un'area diciamo non è grandissima di Londra e qui si scaricano 2-3 milioni di persone in questo carnivale durante quei due giorni domenica e lunedì e c'è di tutto c'è musica c'è cibo vario cibo dei vari paesi e poi ci sono questi carri con queste ballerine ballerini vestiti con questi abiti caraibici che danzano insomma che bello andate a vederlo sono le cucchie londinesi che vogliamo sentire così ci organizzeremo anche il secondo weekend sotto carnevale di Notting Hill c'è voluto più di due minuti ma dovevo fare un po' la storia di com'era perfetto anche perché stasera abbiamo solo sforato di quattro minuti perciò ci stiamo stasera siamo stati veramente bravi Antonella per noi è un privilegio e lo dico veramente a cuore aperto averti e sentirti raccontare della letteratura che ti rende biblio boom anche 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 a te e noi siamo sempre contenti e felici quando arriva Antonella biblio boom vero Elios? assolutamente assolutamente sì Antone è sempre è sempre un piacere ed è bello anche stare a ascoltare oltre ai libri che per carità è giusto è indispensabile promuoverli ma anche le storie legate a Londra all'Inghilterra ogni volta ci ci racconti qualcosa di nuovo che e dire ai telespettatori non era programmato questo del carnevale no no vabbè però sapete che la curiosità nostra è maschia diciamo siamo diventati sono cambiate le cose siamo curiosissimi di quelli che sono i costumi gli usi che Antonella vive nella sua meravigliosa nuova città perciò ci teniamo ci teniamo a che venga raccontata Antonella grazie di cuore grazie a voi per avermi ospitato di nuovo e un saluto a tutti i telespettatori e una arrivederci alla prossima sicuramente Antonella un abbraccio ciao ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti